oggi farò storie dove mi cucino del buonissimo pollo il pollo è molto scusate c'era una zanzara continuiamo amo cucinare il pollo mentre faccio mentre faccio il giocoliere tantissime persone mi stanno chiedendo come assicurarmi che il pollo venga bene la prima cosa è schiacciarlo con la testa perché il pollo si lancia nelle piedi ciao ragazzi questa importante io mangio il pollo ma dovete sempre pesarlo è questo il segreto della palestra io mangio ben 200 etti più mezzo chilo di stronzate a quel punto è importante rosolare il pollo e aggiungere del buon pepe nero grazie a tutti per il supporto dimostrato quando io mangio il pollo per controbilanciare il gusto di questo buonissimo animale aggiungo anche un gusto di merda una faccia di anthony che io metto qui l'importante quando fate queste ricette innovative è avere qualcuno che dall'alto vi benedica e vi guardi sempre e vi dica se il pollo è buono o meno c'è chi ha dio c'è chi altro io ho il mio critico culinario per eccellenza